Benvenuti in questo nuovo video Oggi come potete vedere sono in torrente, sono ritornato qui per cercare qualche fario selvaggia nativa Dopo l'apertura del 15 di marzo non ho più fatto torrente e oggi sono qua con la Favorit X1 da Spinning Ultralight Andiamo a pescare 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 Trotto stupendo Andiamo a pescare 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 Andiamo a pescare